Ormai non ci sono più dubbi. A provocare l'incendio al supermercato Conadilmare di San Gordiano è stato un cortocircuito sviluppatosi nell'area dove si trovano i frigo che contengono latticini e formaggi. Su questo convergono in modo assoluto i rilievi emersi nel corso dell'indagine scatata già durante la notte, tra lunedì e martedì scorsi, a poche ore dall'incendio. Adesso si tratta di vedere quale sarà il futuro del supermercato che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento non solo per il quartiere di San Gordiano. I gestori della struttura, proprio in queste ore, stanno ragionando su due possibili ipotesi. Viene valutata anzitutto la possibilità di procedere ad una sistemazione delle parti che sono risultate in qualsiasi modo danneggiate dall'incendio. Una simile eventualità porterebbe alla chiusura del supermercato ancora per qualche giorno e ad una sua riapertura comunque entro il mese di ottobre. L'attività riprenderebbe quindi in tempi rapidi e sufficienti per affrontare il boom delle vendite che si determina nel periodo prenatalizio. La seconda ipotesi riguarda invece la possibilità di prendere a spunto questo incidente di percorso per procedere ad un restyling totale del supermercato sull'impronta di quello modernissimo Le Terme, realizzato appunto in via Terme di Traiano. D'altra parte, la struttura di San Gordiano è presente ormai da quasi 20 anni ed ha una concezione per certi versi superata, mancando, tanto per fare un esempio, delle casse automatiche dove i clienti possono pagare direttamente servendosi del bancomat o della carta di credito. Che Conadilmare fosse destinata ad una profonda opera di ristrutturazione per renderla idonea alle attuali esigenze dei consumatori era quindi nell'ordine delle cose e l'incendio potrebbe soltanto aver accelerato un processo irreversibile. Uno dei nodi da sciogliere a riguardo è quello del personale e della sua collocazione nel caso i gestori del supermercato provendessero per la seconda ipotesi ovvero quella di procedere ad un restyling totale.